Super Lega a calcio a 6, siamo con Giorgio Toso, capitano del Boga Juniors Camping Anxur. Giorgio, oggi avete vinto una partita contro una delle squadre più accreditate alla vittoria finale. Che partita è stata? Sì, la partita è stata veramente maschia, come si suol dire. È stata una partita rognosa, ci sono stati tanti scontri di gioco e alla fine ha prevalso la squadra che ha messo più cuore, più tenacia. Ci siamo organizzati, compattati, abbiamo avuto due infortuni durante il match ma al tempo stesso abbiamo raggiunto la vittoria con capabilità. Sono tre punti fondamentali, ci rilanciano in classifica contro una diretta concorrente per la vittoria finale. Speriamo bene perché il cammino ovviamente è lungo ma al tempo stesso ci piace scavalcare questa salita. Ecco appunto, dopo un girone di apertura diciamo abbastanza anonimo un Boga Juniors Ristorante Anxur che rilancia le proprie ambizioni di vittoria. Sì assolutamente, abbiamo fatto un paio di innesti veramente molto utili alla squadra credono nel progetto nato poi nel Camping Anxur che è il nostro main sponsor della squadra. Quindi ci rivedremo sicuramente per le fasi finali di questo torneo. Grazie Giorgio. Un abbraccio.